Sono particolarmente contento quest'oggi perché abbiamo ben due personalità del comune di Castano I l'iniziativa in Natalizia è il motivo principale per cui i miei ospiti di quest'oggi sono qui presenti qui a Radio TRM, quindi ciao Carola Ciao Gary Ciao Alessandro Ciao, grazie per l'invito Allora, partiamo appunto con la discussione con l'elencare le molteplici iniziative a livello Natalizio Castano quest'anno offre veramente molto, vero? Sì, quest'anno offre veramente tanto a partire dall'otto che sarà l'inaugurazione io magari vi dico un po' a grandi linee poi Alessandro entra un po' nel dettaglio abbiamo tante belle collaborazioni quest'anno collaboriamo veramente dalla Casa di Riposo San Giuseppe alla Biblioteca, all'Oratorio le attività commerciali insomma veramente con tante realtà quindi noi siamo particolarmente contenti e magari adesso nel dettaglio Alessandro ci dice qualche... Sì, no, adesso non elenco tutti gli eventi natalizi li potete trovare anche comodamente sui vari social del Comune sul sito e li abbiamo pubblicati e sono anche diffusi tramite delle brochure delle locandine che abbiamo elaborato l'ha detto Carola insomma come al solito un ricco Natale castanese tante sono le collaborazioni con il Comune faccio riferimento al tessuto commerciale che ogni anno si spende davvero tanto per organizzare tanti eventi ma anche e soprattutto il tessuto sociale cittadino il mondo del volontariato il mondo del terzo settore ci dà una grande mano e sono contento insomma di dirvelo stasera perché ci teniamo particolarmente e poi insomma l'abbiamo detto si inizia... in realtà è già iniziato nel mercatino delle pulci a Castano Primo che per il Natale verrà appunto allestito nella nostra piazza centrale la piazza Mazzini e poi si finisce come al solito ai primi di gennaio con gli eventi dedicati alle cittadinanze alla Befana e tutto il resto Tra l'altro torna quest'anno anche la famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio qui mi rivolgo a Carola visto il suo assessorato è un po' vicino a questo mondo sì ecco esatto sì torno alla pista di pattinaggio l'abbiamo riportata in piazza Mazzini sono già cominciate diciamo le schettinate però l'inaugurazione sarà comunque sempre all'otto con l'accensione delle luci poi Gary se mi permetti ti dico quei quattro eventi legati un po' più al mio assessorato ci sarà una camminata a sei zampe quindi con i cani in collaborazione con l'istituto Falcone Borsellino con la PAL con la fondazione Aurea questa cosa è molto carina poi abbiamo un museo aperto questo museo con i cimeli del calcio degli anni che furono per concludersi al 30 che sarà proprio l'ultimo evento sportivo che chiuderà l'anno europeo dello sport 2023 che è una pedalata benefica sulla alzaia del Villoresi da Castano a Monza ci richieremo come al solito all'ospedale Maria Letrizia Verga per portare un augurio e un saluto ai bambini ricoverati nel reparto purtroppo oncologico dell'ospedale stesso come già detto in dettaglio poi sono visionabili anche tutti gli altri vari appuntamenti ma abbiamo dato un incipit visto che siamo verso la fine dell'anno e abbiamo appena parlato di alcuni eventi nel caso sportivi è un po' un periodo dove si fanno dei bilanci non vorrei fare un bilancio vero e proprio però siamo alla fine di un anno dove ci sono state molte cose ma soprattutto siamo di fronte a un 2024 che vedrà molte altre cose compresa appunto la chiamata alle urne del parlamentino locale quindi insomma un anno molto particolare vero Alessandro? è molto vero ti ringrazio anche per la domanda è già iniziata in qualche modo la campagna elettorale a Castano noi ci siamo presentati il 25 di novembre scorso è stata una bella serata ci sono stati tantissimi ospiti tanta gente è stato insomma un po' il lancio un po' l'inizio adesso inizia davvero la campagna elettorale quella pancia a terra dove davvero dovremmo ascoltare un po' anche i bisogni dei castanesi che sono bisogni in crescita e dovremmo cercare di proporre soluzioni all'altezza e davvero per assecondare e provare a rispondere ai bisogni di tutti certo diciamo subito che noi poi entreremo più nel dettaglio questo sì davvero nel 2024 però volevo lasciare un minutino a testa per capire come sono andati come sono trascorsi questi anni questi primi anni questa prima esperienza quindi per i vostri assessorati in qualche modo allora io vabbè io sono la veterana perché già oramai il decimo anno e la mispreferenza diciamolo anche e la mispreferenza è vero e quindi in dieci anni ho visto secondo me un bel crescendo del mio gruppo sono contenta vabbè con il mio assessorato devo dire la verità mi sono tolta tante soddisfazioni ma non tanto per me ma veramente per i castanesi abbiamo fatto tanto cioè lo dico me lo dico anche da sola perché insomma abbiamo fatto tanto abbiamo concluso quest'anno vincendo anche il titolo appunto di comune europeo dello sport con tante attività io dico sempre io vabbè ci metto tanto del mio perché lo sport mi piace secondo me lo sport è educazione è vita è benessere è tutto è tutto quello che vuoi devo dire grazie alle nostre associazioni perché comunque devo dire che anche in questo campo cioè da dieci anni fa adesso ho trovato delle associazioni che adesso hanno proprio voglia voglia di partecipare voglia di fare partecipare a bandi sport nei parchi a disposizione veramente grazie Alessandro se carola è la veterana tu sei un po' più giovane ma ricopre comunque un ruolo importante perché appunto presentandoti come candidato a essere sindaco immagino che il passaggio sono stato un po' più dietro le fila evidentemente ho ricoperto la carica di assessore al bilancio assessore all'ambiente alle politiche giovanili sono quei ruoli dove davvero magari usi meno il microfono sei meno sul palco però abbiamo raggiunto come l'ha detto Carlo a quello lì un risultato davvero epocale di questo dobbiamo ringraziare te gli uffici e tutto anche il mondo associativo l'hai detto tu in realtà io ho come dire gestito da vicino queste materie materie complesse che però mi hanno dato davvero la possibilità di concentrarmi sui capitoli del nostro bilancio che a volte possono sembrare solamente dei numeri così avulsi da ogni realtà in realtà dietro quei numeri lì dietro alle entrate comunali alle spese comunali ci sono tante persone tante situazioni tante anche fragilità esperienze di vita e quindi questo davvero mi ha permesso di capire da vicino come davvero sia importante darsi da fare per il proprio territorio e sono sicuro che insomma ne avremo tante ancora da raccontare adesso ci aspettano dei mesi importanti e siamo contenti di spenderli per la nostra città ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con noi quest'oggi sicuramente come detto il 2024 comunque vada ci vedrà vicini e spesso torneremo a parlare con voi delle rispettive vostre deleghe qualsiasi esse siano grazie è stato un piacere è stato un piacere ciao a tutti qui è stato un piacere 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 qui è stato un piacere